ciao a tutti sono marco ghezza ambassador per l'italia di bim santori oggi parliamo di la froig 16 anni un whisky in edizione limitata prodotto soltanto in 11.500 bottiglie un whisky che invecchia per tutti i suoi 16 anni di gestazione in botti ex bourbon questo lungo invecchiamento fa perdere a questo whisky quelle note fortemente torbate che caratterizzano la froig e fa invece guadagnare e acquisire queste note molto più fruttate e anche queste note di grande speziatura che ricordano il pepe un whisky dal sorso quindi più morbido più pulito un whisky per i veri appassionati del mondo la froig